Però la qualità che loro ti propongono è vera ed è concreta, non sono parole al vento per conquistare il cliente. Io praticamente avevo la piorrea che mi ha mandato tutto l'osso, è un caso difficile. Adesso sono molto contento perché ho riacquistato quasi il mio sorriso originale. Ho scoperto Palmas perché ha rotto le scatole, mi ha rotto veramente le scatole. Io facevo delle ricerche su internet quando facevo i cavoli miei e veniva sempre fuori questo video di sono Palmas, sono medico sardo in Moldavia e lo cancellavo. Sono Palmas, medico sardo in Moldavia. Finché un giorno mi ha rotto veramente le scatole, uso un termine più forte, sono andato dentro il suo video e là mi ha illuminato. Tanto più che sono andato qua, sto medico sardo in Moldavia. Io raccomanderei questa clinica perché? Perché quello che mi ha conquistato è una cosa che il dottor Palmas lo dice anche, che effettivamente è una cosa vera, verissima. La qualità, la qualità. Perché alla fine è vero che io ho cercato di contenere il prezzo, però la qualità che loro ti propongono è vera ed è concreta. Non sono parole al vento per conquistare il cliente. Poi anche, oltre alla qualità del materiale, anche la gentilezza delle persone che portano a parlare un italiano e quindi questo è molto bello perché è come trovarsi a casa. Poi io che sono veneto, ho trovato tanti veneti in questa zona. Quando vado fuori in ristorante, mi sembra essere più in Italia che a Cisinau. a Cisinau.